ci svolgono due chiavi da 13 aumentare la molla invece per sfilarla ecco questo è libero adesso il ponte dovrebbe essere libero questo è solo appoggiato lo risolto spostando il blocco del fregno b piegando l'asta e adesso svito il ponte è solo appoggiato Non è un po' di farlo. ecco tini un po ecco adesso bisogna vedere di pulire questa roba qua buongiorno amici ragazzi allora oggi il problema è questo ho tolto dalla sale vecchio i giunti diciamo il collegamento elastici e la situazione è questa a parte che qui è marcio era marcio tagliato ma ancora buono si potrebbe ancora saldare gli anelli sono andati dalla parte interna questo ancora peggio mentre tutto il resto può ancora andare allora siccome che in giro si fatica a trovare qualcosa di buono perché la macchina è vecchia e a parte questo anello è qui tutto il resto può ancora andare io penso di provare a tagliare questo anello ho trovato un tubo dello stesso diametro siccome che è un anello ribattuto dall'interno all'esterno ho provato proverò a infilare dentro un altro anello che ho un tubo tagliato e vediamo se riesco a provarlo a rigenerarlo proviamo sennò butterò via secondo me non è neanche saldato questo l'ho ribattuto dentro questo l'ho ribattuto dentro lo tagliare di qua dovrebbe uscire lo tagliare di qua dovrebbe uscire il nostro appare Questa è ambientata dalla pulcheria che si è fermata. Questa è ambientata dalla pulcheria. Questa è il tubo che deve entrare, il tubo d'acciaio. Questa è ambientata dalla pulcheria. 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 Questa è ambientata dalla pulcheria.